La Giunta regionale, con una delibera di dicembre pubblicata a gennaio, aveva deciso di negare il contributo per mensa e trasporto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie e no profit. La FISM, Federazione Italiana Scuole Materne, aveva definito questa scelta vergognosa e discriminatoria e aveva presentato ricorso. Ora il Tarpuglia lo accoglie e condanna la Giunta Vendola, annullando l'efficacia della delibera e riconoscendo il diritto a vedersi inseriti nel Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2014 per le scuole dell'infanzia paritarie, gli stessi interventi economici e non previsti in favore delle scuole dell'infanzia statali e comunali a titolo di contributo per il servizio di trasporto e mensa. Avevamo chiesto al presidente Vendola, dice il presidente regionale FISM Fabio Daniele, con quali parole avrebbe spiegato perché in Puglia ci sono bambini considerati diversi da altri e privi di alcuni diritti. Vendola ha taciuto e l'assessorato al diritto allo studio ha confermato la correttezza del suo operato. Ora il Tarpuglia, in sede cautelare, ci ha dato ragione e soprattutto ha salvaguardato la Costituzione repubblicana. E' stata scritta una bella pagina per le scuole dell'infanzia paritaria e no profit e per tutte le famiglie pugliesi, continua Daniele, che ora all'interno del sistema scolastico pubblico saranno libere di scegliere la scuola e il progetto educativo che ritengono più idoneo alle loro esigenze educative. La questione deve essere chiara, dice l'avvocato Vernola, consulente giuridico della FISM. La regione Puglia ha forse la migliore legge sul diritto allo studio d'Italia, dice. Il Tarpuglia garantisce pari diritti a tutti i bambini, a prescindere dalla scuola frequentata, in quanto definisce la scuola dell'infanzia paritaria servizio pubblico, in linea con la legislazione nazionale sulla parità scolastica. L'ordinanza cautelare del TAR si basa sull'errata interpretazione operata dall'Aggiunta Vendola. Per tali voci di contributo non è applicabile il criterio della natura politica e discrezionale della decisione, in quanto, essendo destinato direttamente agli alunni, la regione non può fare una discriminazione a seconda del tipo di scuola frequentata, se non violando tutti i precetti normativi dettati in materia anche dalla Costituzione. Adesso, dalla FISM si aspettano che l'assessore Albasasso eviti il ricorso della regione in appello al Consiglio di Stato e metta in atto i procedimenti amministrativi per una rapida assegnazione delle risorse.